ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi facciamo qualcosa che tutti gli anni torna fuori e cioè un video che intitolo sempre chi compra la juve te lo dico io nel quale cerchiamo di riassumere un po tutti i nomi che sono usciti in chiave calcio mercato per quanto riguarda la juventus ovviamente ce ne sono già alcuni che sono saltati per esempio sarà fatto il nome di perisic ce ne sono invece altri che dovrebbero essere confermati da qui a breve come pogba di maria ea quanto pare pure cambiaso anche se qua vado un po più con i piedi di piombo e altri che potrebbero arrivare di cui ovviamente hanno parlato tutte le prime pagine dei giornali quest'anno arriva un po più tardi ma perché c'erano stati altri video da fare rispetto a questo e forse anche meglio così perché in questo momento abbiamo un'idea generale più grande per quanto riguarda quelle che sono le necessità della juventus e per quelli che sono i giocatori che devono arrivare ma soprattutto che devono uscire perché per la prima volta in chi compra juve te lo dico io forse in realtà non è nemmeno la prima volta ma a memoria è così vado a fare anche una panoramica di quelli che sono le eccessioni dei calciatori della juve per capire perché ragazzi noi siamo sempre qua che parliamo di quelli che arriveranno ma la juve ad oggi ha qualcosa come 34 35 giocatori presenti in rosa e quindi bisognerà capire chi confermare e chi no per partire per iniziare è necessario capire come è strutturata una lista champions lo sappiamo abbiamo già parato tante volte solitamente sono 25 giocatori di cui 21 normali più 4 ctp cioè giocatori cresciuti all'interno del vivaio della squadra se siete tutti pronti iniziamo questo viaggio non ho idea di quanto verrà lungo questo video probabilmente verrà lunghino vi chiedo di lasciare un mi piace a questa guida completa per il calcio mercato della juventus e se ancora non avete fatto iscrivetevi a questo canale youtube siamo 215 mila abbiamo raggiunto gli 80 mila su instagram quindi veramente tanta tanta roba e ieri sera ho portato anche un video abbastanza lungo qua sul canale nel quale la juve finalmente riesce a vincere la champions league anche se ovviamente su fifa però attendiamo la vittoria della juve anche nella vita reale allora questa è la lista champions che aveva la juve l'anno scorso quindi i 23 giocatori 21 più i due ctp con cui abbiamo disputato il ritorno con andate ritorno con il villa real quindi dopo il mercato di riparazione dopo l'arrivo di vlaovic dopo le sessioni di kuluseschi di bentancur di ramsi ovviamente anche l'acquisto di zaccaria e quindi questa potrebbe essere un'impronta da seguire uno stampo da ricalcare a livello numerico ovviamente per quanto riguarda la nuova lista champions quella che verrà presentata a termine del calcio mercato per fare questo cerchiamo di capire un po quella che è la rosa della juventus oggi l'altro giorno sui social vi ho incollato alcune formazioni che contenevano tutti i giocatori presenti nella rosa della juventus di oggi tra l'altro con una grave dimenticanza non caricando anche la slide giusta con fagioli miretti e rovella purtroppo ragazzi mi sono scappati e qualcuno se n'era pure accorto vi chiedo scusa avete ragione voi infatti ho riso perché un ragazzo mi ha scritto ma come non hai messo questi tre i giovani della juve non me l'aspettavo la parte tua e avevi ragione io quando ho letto il tuo commento non capivo effettivamente non avevo caricato tutte le slide e mi ero dimenticato pure devinter quindi questa dovrebbe essere una panoramica più dettagliata più precisa ovviamente ci sono tantissimi giocatori che tutti i giorni arrivano tornano a juventus dai prestiti e quindi potrebbe non essere esatta al 100% neppure questa io ho contatto 35 giocatori con 9 potenziali tra ctp e lista b quindi under e ovviamente ci sono alcuni giocatori come zanimacchia per dire che sono vicinissimi alla cessione altri come fra botta che sono già stati ceduti infatti fra botta non l'ho messo un altro che potrebbe partire da qui a breve mandragora bisogna capire se andrà la fiorentina oppure tornerà al torino ranocchia dovrebbe partire insomma sappiamo che tra questi ci sono tanti giocatori che da qui a breve non faranno più parte della rosa della juventus e questo è assolutamente un dato di fatto io comunque ve li ho messi tutti c'è neanche una caio d'orghe purtroppo che ha un infortunio ben più grave addirittura rispetto a quello di chiesa che nella prossima stagione non verrà considerato giocatore né della juventus né di nessun'altra squadra perché dovrà semplicemente preoccuparsi di recuperare e al massimo farà qualche presenza con l'under della juventus dove proprio aveva rimediato quel brutto infortunio quindi questi al 29 giugno 2022 sono i giocatori della juve 35 e ovviamente la juve dovrà fare qualche cessione dovrà valutare alcuni giocatori tra prestiti cessioni definitive e poi cercare di capire dove andare a investire sul mercato estivo e quindi io vi parlo delle potenziali cessioni della juve 2022-2023 io penso che questi potranno essere dei giocatori cedibili ora io qua vi ho messo De Ligt, Alexandro, Alexandro potrebbe rimanere ragazzi lo sappiamo Alexandro è uno di quei giocatori che è difficile piazzare De Ligt non è cedibile per la juve ma sappiamo la situazione ne abbiamo già parlato anche qua come vi dicevo caio d'orghe ma non c'entra niente Pellegrini avrebbe chiesto l'accessione su Dragus in Ciel Genua con cui la juventus sta parlando per Cambiaso potrebbe essere una contropartita Arthur è cedibile McKennie e Rabiot se arrivano offerta possano partire non significa che questi verranno ceduti sono potenziali cessioni anche Fagioli stesso non si sa se rimarrà c'è stata questa trattativa tra il procuratore e la Juventus bisognerà capire alcune cose non sono tutti giocatori che usciranno ma sono giocatori sui quali ci sono state delle chiacchiere e quindi ovviamente anche altri potrebbero uscire ma ad oggi non ci sono voci su di loro quindi concentriamoci sulle potenziali cessioni e quindi una potenziale rosa da Juventus 2022 2023 potrebbe essere la sottrazione tra tutti quelli che abbiamo visto le potenziali cessioni io ho creato uno scheletro che è il seguente quindi i tre portieri che vengono confermati otto difensori ovviamente non so tutti i nomi quindi vi ho messo un difensore centrale e un terzino che potrebbe giocare a destra o a sinistra a seconda di quello che viene identificato De Sciglio centrocampisti ragazzi io faccio fatica a immaginarmi un altro colpo a centrocampo poi potrebbe assolutamente avvenire con l'accessione di uno tra McKennie e Rabiot non lo escludo assolutamente in attacco ecco l'attacco secondo me insieme alla difesa è il reparto su cui puntare gli occhi perché è vero che dovrebbe arrivare di Maria però io mi attendo almeno altri tre colpi oltre di Maria un vice Vlaovic e altri due li ho chiamati Jolly ma perché sono giocatori per dire faccio l'esempio di Zagnolo che tornerà fuori dopo Zagnolo è un giocatore che gioca un po' dappertutto quindi un giocatore che può giocare a sinistra sicuramente secondo me serve più un giocatore che prendi magari come Zagnolo che può essere anche un po' più duttile e quindi qui avremmo addirittura 26 giocatori 22 più 4 tra potenziali CTP lista B quindi uno rimarrebbe fuori addirittura dalla lista Champions e ovviamente qua non ho considerato le eccessioni di Delita e Alexandro che potrebbero avvenire come no poi eventualmente ci si mette a posto e ho considerato pure la permanenza sia di Rabiot che di McKennie secondo me almeno uno dei due potrebbe partire però ragioniamoci tra poco questo potrebbe essere uno scheletro della Juventus e allora chi compra la Juve ci sono dei potenziali colpi io ringrazio Francesco e ringrazio SFU che su Twitter veramente mi hanno dato una grandissima mano nella raccolta dati hanno lasciato tantissimi giocatori nomi di giocatori accostati alla Juventus durante questa sessione di calcio mercato e quindi ho riassunto queste cose che mi sono state scritte anche su Twitter in un elenco nomi della Juventus 2022-2023 eccoci qua difensori Bremer, Koulibaly, Gabriel Dell'Arsenal, Milenkovic della Fiorentina, Badia Schill, Akanji, Acerbi, Romagnoli, Udogi, Cambiaso, Emerson Palmieri, Weindal e Ranallodi come terzini sinistri a destra Molina e Bellanova anche se ovviamente Udogi per dire la Juventus a quanto pare sia informata Amalodi non vuol cedere, Bellanova sembra molto vicino all'Inter, Weindal potrebbe andare all'Ajax Acerbi e Romagnoli sono piani ultimi per completare la rosa giocatori magari proposti alla Juventus Koulibaly molto complicato, Bremer vicino all'Inter, io qua vi ho messo un po' tutti i nomi che sono stati fatti a centrocampo Milenkovic-Savic ma è difficile, Giorginio, Fabian, Paredes, Crestante, Torreira, Nandez anche qua nomi che sono circolati ma vi ripeto, secondo me la Juve centrocampo a oggi ha 12 giocatori un po' difficile pensare ai centrocampisti, poi io vi ho messo per dovere di cronaca perché sono usciti sui giornali, sono usciti sulle applicazioni, anche qua sul canale magari abbiamo parlato di questi calciatori è in attacco, ATT è il vice Vlaovic ragazzi quindi Suarez, Dzeko, Simeone, Arnautovic, Muriel, Milik tutti i nomi che sono stati fatti perché si cerca un vice Vlaovic d'esperienza, un giocatore che è disposto a non giocare, un giocatore che ha già fatto la sua carriera ma che è affidabile quando viene chiamato in causa per sostituire appunto uno come Vlaovic, c'è, si va a trovare pronto e più i jolly, quelli di cui vi parlavo prima, Zagnolo, Costi, Centoni dell'Ajax, Berardi, Neymar, Raspadori, Morata, Ronaldo e Timo Werner, allora Neymar e Ronaldo vi hanno già parlato tante volte, sapete come la penso ripeto, io ve li ho messi per dovere di cronaca, Morata è un nome che c'è sempre, io ve l'ho messo in jolly perché non è proprio un vice Vlaovic, sarebbe qualcosa di diverso Timo Werner ve l'ho messo perché è stato proposto per De Ligt ma sappiamo tutti che Anthony per dire sembra un po' uscito dai radar e quindi ho cercato di fare una scrematura da tutti questi nomi che erano stati associati alla Juventus e quindi chi compra la Juve nomi non impossibili, credo che Koulibaly possa rientrare nell'orbita anche se secondo me è difficile quindi vedete questi sono i centrali per completare il pacchetto, molto probabilmente sarà Cambiaso Emerson Palmieri è lì per... anche lui, boh, non si sa mai Molina, sembra un nome anche se terzino destro siccome oggi non è una priorità per tutte le operazioni di mercato che ci sono da fare, non perché non ci serva centro campo ragazzi, ribadisco, boh, gli attaccanti, Pice Vlaovic sono lì, guardateli sceglietene uno quello che vi pare e nei jolly secondo me questi sono un po' i nomi disponibili e quindi vi dico, la potenziale rosa 2022-2023 della Juventus potrebbe essere la seguente potrebbe essere Koulibaly, quel nome ma magari a me piacerebbe tanto Pogba e Fagioli sarebbero i nuovi innesti a centro campo Cambiaso e Gatti arriverebbero in difesa nella Juventus per completare il reparto Vice Vlaovic, ve lo dico tranquillamente Dzeko in uscita dall'Inter, è un profilo che a me piace come Vice Vlaovic mi piace l'idea di avere uno come Dzeko pronto a subentrare soltanto in casa di necessità Di Maria, perfetto, dovrebbe fare le visite a breve Zagnolo e Kostic potrebbero essere gli ultimi due nomi per completare la rosa della Juventus Per avere un reparto d'attacco ben fornito perché la Juventus dovrà puntare tanto lì davanti Il prossimo anno per cercare di servire Vlaovic e cercare di tornare a dominare anche in Italia Qualcuno potrebbe dirmi, sì però, troppi nomi d'esperienza Koulibaly, Jacob, Pogba di Maria, lo stesso Kostic che non è più giovanissimo Sono d'accordo e qualcuno potrebbe dirmi, sì però la linea verde In realtà se cerchiamo di fare le differenze tra la passata stagione e quella con la potenziale rosa Quindi confrontando banalmente i giocatori che non ci sono più dall'anno scorso E quelli che andrebbero a sostituire quelli di quest'anno Eccoci qua Uscirebbe Koulibaly, Chiellini per Koulibaly Rugani per Gatti Pellegrini per Cambiaso Artur per Fagioli Ramsey per Pogba perché avremo un giocatore in più E l'anno scorso Ramsey qualche presenza l'ha fatta Dybala per Di Maria Bernardeschi per Zagnolo Ken per Dzeko Morata per Kostic Bene o male Se facciamo il confronto uno a uno Soltanto due giocatori peggiorano sotto il profilo anagrafico Che sono Dybala per Di Maria E Ken per Dzeko Tutti gli altri o ci guadagni qualche anno Oppure siamo lì e non cambia granché Quindi non sarebbe nemmeno malissimo E arrivereste ad avere una situazione di questo tipo Ora vi butto giù una formazione titolare a caso Più le riserve Quindi magari uno potrebbe dire no Però secondo me dovrebbe giocare quello opposto Non cambia niente Immaginatevi una formazione titolare con Scesni, Kambiaso, Koulibaly, Delit Danilo, Pogba, Locatelli, Zaccaria Chiesa, Vlaovici, Di Maria E in panchina a disposizione Perin, Pinsoglio, Bonucci, Gatti Alexandro, Desciglio, Quadrato, Rabiot Meccenni, Fagioli, Miretti, Zagnolo Kostic, Dzeko e Sule Sarebbe secondo me una grande rosa Una grandissima rosa Ma qualche dubbio Devo dire la verità Ce lo avrei E voglio parlarne Voglio esporli Voglio buttarveli in faccia E cercare di ragionare insieme a voi Perché L'arrivo di Koulibaly senza la cessione di Delit Ve lo ripeto Secondo me è molto difficile Sarebbe molto bello Ma molto difficile E con una potenziale cessione di Delit Riusciremo poi a sostituirlo Con due centrali di livello Anche qua ho qualche dubbio Leggendo un po' i nomi che sono circolati Poi magari la Juve C'ha un asso nella manica O magari va su Badia Schill Che diventa il nuovo fenomeno Del calcio mondiale in difesa Però io non lo so Ancora Gatti Sarà pronto per la Serie A Per la Juventus Poi magari lo stesso Gatti Diventa un titolare inamovibile Non lo superi neanche Saltandolo con cinque uomini Magari Alexandro ancora è rosa Quindi Cambiaso sarebbe titolare Ma lo stesso Cambiaso Poi sarebbe un titolare affidabile Per la Juventus Io Cambiaso qualche volta Ho visto giocare quest'anno Non mi è mai sembrato malissimo Non mi è nemmeno sembrato un fenomeno C'è anche da dire Che giocava all'interno di un Genoa disastrato Che poi è addirittura retrocesso E lui è stato uno dei pochi Che cercava di portare alto Di Domeno del Grifone I terzini Io ho messo destri Ma in generale sarebbero affidabili Io qualche dubbio sui terzini Ce l'ho Secondo me è un reparto Nel quale bisogna intervenire Però abbiamo visto già Tante altre operazioni Perché la Juventus Dovrebbe fare qualcosa come Sette, otto operazioni in entrata Non lo so Quindici, venti in uscita Qualcosa del genere L'accessione di uno Tra l'Arabio e McKennie Poi magari potrebbe arrivare Paredes per Ken al loro posto Però allora poi C'ho un dubbio Fagioli e Miritti Quanto giocherebbero All'interno di una rosa Di questo tipo Per cercare di valorizzare Almeno uno dei due Potrei accettare un centrocampista in meno Assolutamente sì Perché averli lì E non farli mai giocare Serve veramente a poco Allora delle due Cedo uno come Rabiot E valorizzo uno come Fagioli O uno come Miritti Se non tutti e due Magari benvenga Sarebbe bellissimo E allora vi chiedo Zaccaria poi sarebbe un titolare fisso Oppure no Anche perché qualche problemino fisico Gliel'abbiamo visto l'anno scorso Anche Pogba non viene proprio da anni Fantastici dal punto di vista Della continuità Quindi sono cose che vanno valutate Il centrocampo quindi sarebbe davvero a tre Io ho ragionato sulla squadra Come 4-3-3 Perché è quello che si mormora Ma io ho sempre il dubbio Che il 4-2-3-1 Possa tornare fuori Zagnolo non è ridondante Con Di Maria Quadrado e Sule Ancora una volta giocatori Chiamano partire dal centro-destra Larghi e destra Per poi magari Ancentrarsi Entrare nel campo O comunque occupare la corsia di destra E poi Sule Quanto giocherebbe? Dato che c'è questa sovrabbondanza In quel reparto lì Non sarebbe meglio allora a quel punto Darlo in prestito e farlo giocare Piuttosto che farlo rimanere in una rosa Nella quale Faticherebbe A trovare spazio Perché secondo me Di Maria ha senso Se ci fai crescere Sule dietro Però se poi mi vai a prendere anche Zagnolo Allora qualche dubbio su Sule Mi viene Nel senso Lo vogliono valorizzare Già in questa stagione Oppure no Perché non è che li puoi prendere tutti E farli giocare tutti Costi c'è forte? Non ho mai visto giocare Io vi dico Secondo me è necessario Costi perché nei nomi Che abbiamo visto fino adesso Non c'è nessuno Che gioca a sinistra A parte Chiesa Perché Magari ci mettevi Morata L'anno scorso Ci mettevi Bernardeschi E sono usciti tutti e due Abbiamo visto che tanti Partano a destra Ma da sinistra Senza Costi Ce ne sono pochi L'ultimo dubbio Chiesa Come tornerà? Quando tornerà? Sarà già in forma? E soprattutto giocherà a sinistra? Perché tante volte Allegri ci ha detto Io Chiesa lo vedo meglio a destra Per me può giocare a destra A sinistra Può giocare anche al centro Perché anche al centro Per dire Fatto gol col Chelsea In quella partita Che abbiamo vinto 1-0 Secondo me Chiesa può giocare Veramente dappertutto Anche se ovviamente Sulla fascia rende al meglio Ma giocherà davvero a sinistra? Perché Con questa configurazione A sinistra Abbiamo delle lacune Abbiamo un po' più di debolezze Rispetto a destra Dove invece abbiamo più giocatori Ma era lo stesso discorso L'anno scorso Nibala Kuluseschi Bernardeschi stesso Che partiva da destra Quadrado A sinistra c'è sempre Questa mancanza Quindi vi dico Costi ci potrebbe avere senso Per questo motivo E' anche vero Che solitamente Allegri Come le schiera le squadre Con un finto esterno A sinistra E con un vero esterno A destra Quindi andrebbe a ricalcare Perfettamente La filosofia di Allegri Che ha sempre utilizzato Quando allenava la Juventus E mi viene da dire Con questa configurazione Di squadra Accade anche l'idea Di un 3-5-2 O comunque di una difesa 3 Perché con così tanti Attaccanti Hai bisogno di giocatori Là davanti Che si mettano A fraseggiare E quindi la Juventus Se vogliamo Anche a trazione anteriore Perché forse la difesa Sarebbe penalizzata Perché ribadisco Secondo me Fare Coulibaly D'Elite Sarà complicato E non mi aspetto Chissà cosa In difesa Con la prevalenza Di D'Elite Con l'accessione Di D'Elite Mi aspetto qualcosa di più Per forza di cose Perché lo devi sostituire Ma secondo me Andiamo a indebolirci Nel reparto difensivo Rispetto all'anno scorso Quindi qualche dubbio Ce l'ho Ovviamente Ma questa è un po' Una sorta di guida definitiva Al calcio mercato Estivo D'Elite Sono tante cose Che vanno prese in considerazione Perché La Juve si sta muovendo In questo modo Sul mercato Prima Di fare altri acquisti Che magari Sta già perfezionando È necessario smaltire Perché abbiamo Troppi giocatori Fatemi sapere un po' Se questi dubbi Si ritrovano anche Nella vostra testa Se questa squadra Potenziale rosa Vi piacerebbe Se nell'elenco Che vi ho portato Ci sono altri giocatori Che apprezzate maggiormente O se ci sono dei nomi Che mi sono scappati Sia tra i nomi In ingresso Sia tra quelli già Della Juventus E che andranno ceduti Ho cercato di Portarvi La roba più dettagliata Possibile È stato un lavorone Perché C'è voluto tanto tempo Per cercare di raccogliere Un po' tutti i nomi E per creare anche le slide Quindi spero che Possiate avere apprezzato Il tutto E noi ci vediamo Oggi pomeriggio Dove vi riporterò Una live che faremo Intorno alle 14 Su Twitch Un abbraccio ragazzi Forza Juve E speriamo bene Per il futuro